Bella raga e bevono in questo nuovo video. Oggi vi mostro come completare la sfida colpisci bersaglio poligono di tiro facile. La prima cosa da fare è procurarsi un'arma da distanza, in questo caso un pampafucile. Nell'intera mappa ci sono tre pedane di questo tipo e oggi vi mostro dove si trovano. La prima pedana si trova a sud di Montagnolo e Meledette e alla sinistra di Parco Pacifico, su punto della mappa. Salendo su questa pedana ci spunteranno alcuni bersagli, non li dobbiamo sparare e sfida è completata. La seconda postazione di bersaglio si trova a sud di Picco Polare, in questo punto della mappa. Lo saliamo sulla pedana, spariamo ai bersagli e la seconda parte della sfida è completata. Terza e ultima posizione dei bersagli si trova al centro tra Approdaventurato e Landeletali, in questo punto della mappa. Salendo sulla pedana bisogna colpire quel bersaglio e quell'altro bersaglio. E la sfida è completata. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!